Giovedì 30 novembre, buongiorno da Giuseppe Recca. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il bilancio consolidato con 35 voti a favore e 27 contrari. A chiedere il voto palese era stato il capogruppo del Partito Democratico Michele Catanzaro. Il dibattito in aula ha fatto emergere velenose scorie tra alleati di centrodestra. Fratelli d'Italia ha attaccato apertamente la DC, i democristiani sono andati contro Forza Italia. L'ordine di serrare le file imposte dal presidente Schefani comunque ha funzionato. Tra le posizioni critiche quelle dei deputati agrigentini Giussi di Savarino di Fratelli d'Italia e Margherita Larocca di Forza Italia. Il via libera di Area Lars e il bilancio consolidato ha permesso al governo di completare le procedure per l'emissione in servizio di tutti i vincitori dei concorsi banditi nel 2022. Si tratta di quasi 600 persone fra i centri per l'impiego e gli assessorati per tutti la previsione di prendere servizio al massimo entro febbraio. Ora c'è il voto della finanziaria con l'opposizione già in assetto di guerra. Zona traffico limitato nel centro storico di Sciacca per quattro weekend consecutivi più i festivi a partire dal prossimo 7 dicembre. Lo ha riferito l'amministrazione comunale di Sciacca ad associazioni e comitati di commercianti nel corso di un incontro che si è svolto ieri in municipio. È ancora bloccata per il momento la previsione di una ZTL permanente in centro. Entro questa settimana sarà diffuso il programma delle iniziative di intrattenimento. I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un uomo di 57 anni per stalking. L'uomo, dopo un periodo di semplice amicizia, aveva cominciato a chiedere ad una donna di 30 anni di avere rapporti sessuali. Aveva cominciato ad offenderla in modo aggressivo con continui messaggi vocali, menacce di morte. La donna aveva deciso anche di incontrarlo, avvertendolo che avrebbe detto ai figli dei suoi comportamenti, ma lo stalker le avrebbe puntato un coltello alla gola. Crollo del viadotto scorcia vacche sulla Palermo Agrigento. Arriva la prescrizione per i nove imputati. Era stato aperto senza collaudo nel 2014. Rimase in piedi una settimana durante le feste natalizie. Il cedimento avvenne una settimana dopo l'inaugurazione. Il processo va avanti soltanto per l'ex presidente dell'ANAS Pietro Ciucci e i dirigenti Stefano Liani e Michele Vigna. Non è andata prescritta l'ipotesi di induzione a dare o promettere utilità. Cultura. Tappa saccense stasera al Circolo di Cultura per Anime Ferite. Un appuntamento che fa parte della rassegna Viaggi nella Bellezza proposta in diverse città siciliane dal critico d'arte Tanino Bonifacio e la storia di Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo. Due pittrici che attraverso l'arte sono diventate simboli della rinascita umana malgrado hanno subito violenza, dolore e malattia. L'iniziativa culturale è prevista alle ore 19. Calcio e il momento di difficoltà dello sciacca è stato tema centrale della puntata di Meeting Sport in onda su RMK TV. L'allenatore Davide Boncore ha riconosciuto le difficoltà ma è convinto che con alcuni correttivi in sede di mercato la squadra potrà riprendersi e proseguire bene la stagione. Intanto nel corso di una riunione la società guidata da Pasquale Bentivegna si è mostrata compatta nel proseguire unita il proprio cammino anche in un momento difficile per quanto riguarda i risultati. È tutto per questa mattina, più tardi, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.